Brutto episodio ieri notte al pronto soccorso di Polla. Una donna di Rocca d'Aspide è stata portata d'urgenza dai suoi familiari, accusava problemi respiratori, pare avesse una broncopolmonite bilaterale ma che non provenisse dai paesi della zona rossa. Una volta effettuata la diagnosi il medico presente ha espresso ai parenti la necessità di ricoverarla in un reparto di rianimazione contumaciale cioè composti in isolamento. Con ogni probabilità la donna dunque doveva essere trasferita ad Eboli. È stato allora che alcuni parenti non avrebbero condiviso la decisione visto che la donna si trovava intubata da qualche ora e molto agitati avrebbero finito per forzare la porta del pronto soccorso pur di farla ricoverare. Una scena di violenza di quelle che ultimamente purtroppo sono sempre più frequenti nel pronto soccorso anche sul nostro territorio. Un ingresso in modalità inopportuna che non ha tenuto conto del personale medico e del fatto che era in corso proprio il colloquio per individuare la soluzione migliore per la paziente. Questa mattina il primario del reparto ha provveduto a quantificare i danni causati durante questa folle notte. La donna si trova ora ricoverata a Luigi Curto, è stata messa da sola e si attende l'esito del tampone che l'è stato praticato. La vicenda ha scosso non poco il territorio in questo momento in cui gli animi sono già in ansia per la vicenda coronavirus episodi del genere non aiutano la gestione dei casi. Abbiamo esigenze di filtrare pazienti, ha detto il direttore sanitario del Curto Luigi Mandia, anche perché abbiamo l'obbligo di tutelare tutti coloro che sono ricoverati. Ora come non mai ci devono mettere in condizioni di operare e di avere un minimo di interlocuzione senza che accadano episodi del genere.